è una struttura antisimbica che è stata fatta nel 1985-1986 e sì che la nostra zona nel 1982 è diventata zona simbica e questa è sicuramente una struttura antisimbica e queste sono 15 aule e tra le altre cose questa però prendete la posizione e di unire perché noi possiamo un'unica diventerebbe un'unica da un'unica risolveremo grazie a tutti grazie a tutti